Ecco a voi il forno crematorio, il cimitero del Rotoli, l'unico forno crematorio che c'è a Palermo e Sicilia. Ha un paio di mesi che era in fuori servizio, adesso i tecnici ci stanno lavorando per aggiustare il forno. Se tutto va bene, come è stabilito dalla giunta comunale, dovrebbe essere messo in funzione alla fine di luglio. Ecco la canna fumaria, il guasto proveniva proprio da lì.